sì la discussione molto interessante è stata direi due cose nel mio è tornato come elemento comune del 2020 perché è stato un anno dove la pandemia ci ha costretto molto ci ha impedito di fare degli incontri come questo nel 2020 perché mi torna questa questa data un motivo piccolo nel 2020 noi abbiamo pubblicato una ricerca che è diventato un libro che appunto proprio per quel motivo siamo riusciti a presentare in maniera molto più limitata che si chiama volontari inattesi che è una ricerca che avevano fatto per il csv net a livello nazionale ed era volutamente fatta per escludendo le associazioni stranieri come analisi perché volevamo capire se e come quanto cittadini stranieri partecipino alle al mondo associativo in generale un po perché la dimensione che è un po quella raccontata in questi in questi lavori dell'associazionismo americante che ha un ruolo importante che produce anche queste dimensioni comunitarie sono sicuramente aspetti importanti e anche questo contesto lo dimostra ma proprio per il quadro che ricostruiva luca come dire noi dobbiamo essere consapevoli di un contesto di cittadini stranieri come stato ricordato il numero di cittadini di origine straniera io credo che poi in realtà l'aspetto fondamentale sia la capacità di rientrare da parte di questi milioni di persone se è possibile quando si può in contesti così accoglienti e diciamo socialmente stimolanti ma anche nella vita quotidiana quindi in quel caso misurare la quant'è e anche diciamo misurare quanto associazioni che si occupano di qualsiasi cosa abbiano la capacità di aprire e aprirsi anche a cittadini diversi termine comunità spesso un po escludo un po la dimensione cittadinanza io credo che questo sia un aspetto invece fondamentale e quindi abbiamo per esempio cercato di capire quanti sono cittadini stranieri donatori di sangue cioè quelle azioni che non vengono portate in quanto rappresentanti diciamo di un identità ma in quanto in quanto cittadini e lì abbiamo raccolto anche esperienze di associazioni che valorizzano o che hanno aperto diciamo hanno favorito la presenza di cittadini stranieri per esempio nel nella pubblica assistenza piuttosto che associazioni culturali perché quantitativamente si misura anche in quella in quella fase di diciamo la il test della cittadinanza io credo che le città plurali non lo siano ancora lo saranno quando cittadini stranieri pur restando stranieri per esempio potranno votare proprio sindaco e cosa che ancora non è consentita e quello sarà diciamo per esempio una dimensione un salto decisivo un salto un po e tante non dico decisivo per una cittadinanza vera a prescindere da nazionalità che ricordiamo diciamo nazionalità stranieri non significa essere migranti significa essere di aletaggio migratorio per l'esperienza migratoria recente di una parte di persone ma come sappiamo moltissimi sono nati in italia e vivono una vita diciamo che non ha vissuto fasi come quelle dell'accoglienza vivono una vita come vivono tantissimi cittadini italiani nati in italia e però credo che questa sia una dimensione decisiva per misurare i processi di integrazione l'altra cosa e chiudo sempre nel 2020 e ricordo anche lì probabilmente non si è riuscita a discutere credo che sarebbe interessante farlo invece piapa il porto della dimensione del lavoro social ricorrevano i vent'anni della tale 2 8 che è stata una legge che ha molto inciso sulla dimensione sociale io credo che su quello varrebbe la pena di fare una riflessione perché come tutte le norme tutte le leggi e la tale 2 8 è stata una legge importante per alcune parti perché sicuramente ha prodotto una professionalizzazione ma dall'altra probabilmente ha tolto qualcosa cioè riportato la dimensione del lavoro sociale a quello della produzione di un servizio quindi probabilmente limitando quello che per esempio esperienza come queste invece ancora riescono a fare credo che lavorare diciamo provare a fare una riflessione magari su questo tema potrebbe aiutarci anche a come dire a capire che ci sono delle esperienze e delle variabili rispetto alla produzione di sociale che forse il caso di rimettere di di rimettere in gioco grazie Andrea